ciao ragazzi dal pensiero dell'architetto oggi farò vedere che cosa appena ho finito di fare e sarà poi oggetto di un futuro video ho messo al muro il mio home assistant ecco qua il mio tablet di seconda mano che ho riadattato per realizzare il mio schermo touch questo è quanto realizzato per il mio tablet qua troviamo il contatore il fotovoltaico la temperatura il grafico della temperatura qua c'è praticamente il controllo della batteria del tablet che viene gestita da tasker in modo che quando scende sotto il 15 per cento si attiva in automatico oppure puoi attivare il grafico per attivarlo manualmente i sensori fatti per la stufa pellet l'acquario qua posso accendere l'irrigazione vedete ho fatto i pulsanti lampeggianti così saltano più all'occhio poi posso spegnere dalla parte sotto e l'acquario posso spegnere di qua ho inserito la mia bella casetta in 3d dove troverete poi le altre pagine l'ingrandimento e i pulsanti delle lampadine con lo sfondo nero quando si accendono diventano gialle e quali spegni l'espressione del tempo qua in basso contanto della mia regione con l'aggiornamento in tempo reale del satellite dei gruppi nuvolosi ora vi faccio vedere ancora il pannello di controllo di tutti i consumi di casa mia con tutte le varie statistiche e le previsioni del tempo e qua troviamo la nostra casa in 3d con le varie interattività torniamo al pannello di controllo dove sono riportati tutti i consumi della mia casa con i vari grafici e questo è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace a questo mini video questa anteprima aspetto i vostri commenti nella parte sottostante e iscriviti al canale per non perdervi poi il video di come ho realizzato e come ho messo al muro il mio home assistant ciao ragazzi